Altri due commissari straordinari per altrettante opere strategiche, l'arretramento della linea ferroviaria e il collegamento tra la statale adriatica e il porto di Ancona, noto anche come ultimo miglio. E' quanto chiede la Regione Marche al Governo e l'annuncio arriva dall'assessore all'infrastrutture Francesco Baldelli. La Regione Marche vuole tagliare i tempi per la realizzazione di opere importanti per superare il gap infrastrutturale in cui la nostra comunità regionale si trova. La nomina di un commissario per il collegamento tra il porto di Ancona e la statale 16, passando il nodo dell'ospedale di Torrette di Ancona, e un commissario per la progettazione dell'arretramento e quindi della realizzazione dell'alta velocità e alta capacità lungo la linea adriatica, quella ferroviaria. Si tratta di un intervento di progettazione di circa 305 milioni di euro per un importo complessivo dell'arretramento e della realizzazione dell'alta velocità nel tratto marchigiano tra Bologna e Lecce di oltre 9 miliardi di euro di investimenti. La Regione è anche la prima a intervenire sulla reazione e la sanificazione delle scuole. Avete stabilito i criteri in poco tempo? Abbiamo stabilito come promesso in tre settimane i criteri per la ripartizione di fondi fra i comuni. Un intervento strutturale, il primo in Italia, la prima regione italiana che lancia questo modello. Far rientrare i ragazzi in sicurezza. Una sicurezza che non è stata garantita dal Governo nazionale, per cui abbiamo deciso di investire già da subito 2 milioni di euro che divideremo il 70% destinati ai comuni marchigiani, il 30% alle province, il 50% dell'ammontare complessivo destinato ai comuni per i piccoli comuni, per dare la stessa dignità alle grandi città delle Marche ma anche ai piccoli borghi. 4 mila euro a daula per la ventilazione meccanica controllata che riuscirà a garantire, ci dicono gli studi scientifici, una sicurezza anti-Covid ma in futuro anche una sicurezza contro le sindrome influenzali. Il provvedimento della Giunta regionale è stato preso da esempio oggi dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni alla stampa al termine delle consultazioni. La scuola, infatti, è una delle priorità del Governo Draghi. Allora invece di fare tanti giri di parole abbiamo portato al Presidente incaricato l'esempio virtuoso della regione Marche, governata da un esponente di Fratelli d'Italia, Francesco Acquaroli, che ieri ha stanziato 2 milioni di euro per consentire che vi sia nelle aule delle scuole la ventilazione meccanica controllata che è, secondo gli esperti europei, il modo migliore chiaramente per rendere l'aria salubre e per ridurre la contaminazione da Covid e non solamente, quindi consentire agli studenti di stare in sicurezza.